Sabato sera in loggia, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, l'associazione Almanegra Academy presenta uno spettacolo di tango argentino, ballato in tutto il mondo con le stesse modalità. Ci troviamo davanti a una nuova manifestazione a Pordenone, soprattutto con un'associazione sportiva nata nel 2019, che si è affacciata in un periodo particolare, sapete che c'è stata la pandemia, ma oggi si propone per fare una manifestazione proprio in centro a Pordenone, nella loggia del comune di Pordenone e dunque faremo una milonga sotto la loggia. È prevista per il 10 settembre alle ore 20.45 e comunichiamo ai cittadini di Pordenone che sarà sicuramente un bellissimo spettacolo fatto con criteri internazionali e dunque ciò che vedrete lo potreste vedere in qualsiasi altra parte del mondo. Come viene eseguito il ballo, il tango argentino e soprattutto con quale etichetta di gentleman ci saranno in questa manifestazione per poter rispecchiare ancora tempi passati, ma sicuramente che possono fare bene anche per il futuro. Dunque vi aspettiamo numerosi a questa manifestazione. Il tango argentino è uno sport, è un'esperienza di vita, è democratico ed è sensuale. Noi aspettiamo tutta la popolazione, in primis gli appassionati del tango che arriveranno da ogni dove, aspettiamo anche gente ovviamente da fuori regione. Noi siamo Alma Negra Academy e ringraziamo tantissimo l'assessore De Bortoli per questa meravigliosa opportunità per poter sfruttare la loggia del municipio e i palazzi storici e ringraziamo anche tutta la giunta comunale. Grazie.